Lo invitiamo subito qui sul palco, Dario Fabri, analista, geopolitico, direttore di Domino. Io so che il titolo è rimasto, qualcosa ovviamente è cambiato, il titolo è rimasto, perché noi nel disordine totale, credo che sia assolutamente centrato una volta di più dopo quanto è successo in questo weekend, a questo punto ascoltiamo volentieri la relazione di Dario Fabri, prego. Tanto di nuovo, buonasera a tutti, grazie davvero, ormai sono, mi metto da questa parte, ok, sono un ospite fisso e sono molto orgoglioso di essere stato adottato così dal gruppo Atesis, quindi grazie davvero. Succedono cose, dicevamo, anche dietro le quinte, ci immaginavamo di ritrovarci questo lunedì, ma anche con un tentato omicidio e danni di Trump, tra poco inevitabilmente ne parliamo. È stato raccontato anche in introduzione a questa serata di come viviamo, un periodo c'è anche peraltro nel titolo di notevole disordine, eccetera, eccetera, proveremo a dare un vago senso a quello che sta capitando, l'abbiamo già fatto questo inverno insieme, ma, come detto, le evoluzioni sono talmente, forse quotidiane, è una iperbole non necessaria, ma poco ci manca. Che cosa è cambiato lo vedremo insieme, ma ripartiamo dal perché di questo disordine. Io, come sempre, mi faccio accompagnare da alcune carte che mi servono per mettere a terra, per così dire ciò che andrò a raccontare, tratte dalla mia rivista da Domino. Ebbene, abbiamo visto già nel percorso che in questo 2024 abbiamo affrontato insieme, negli incontri che abbiamo avuto, come ciò che sta capitando sfugge a tutto quello che ci eravamo raccontati in questi anni, che non ci ripeteremo, che ci sappiamo, cioè ci eravamo raccontati un mondo essenzialmente che non c'è, un mondo che si era spinto fuori dalla storia, che aveva raggiunto una sorta di termine ultimo delle sue vicende, quindi un mondo più o meno pacifico, in cui tutti pensassero soltanto a commerciare, a ciò che era conveniente, e quanto non fosse conveniente non poteva più accadere, proprio perché non beneficiava nessuno di un'eventuale distruzione dell'ordine che avevamo conosciuto. Ormai dovremmo averlo mandato a memoria, anche se ho qualche dubbio, a questo lo lasciamo da parte, quel mondo non poteva essere, non era esistito, non poteva soprattutto esistere per sempre, ma che cosa era che lo determinava? In questo si inserisce anche l'attentato nei confronti di Trump. Ciò che determinava quel presunto ordine al quale ci eravamo abituati era il potere superiore degli Stati Uniti d'America sugli altri, per farla molto breve, senza girarci. troppo intorno, cioè puntualmente quando si ha la sensazione, è già capitato nella storia, che la storia per l'appunto sia finita, prima veniva ricordato più che correttamente come la geografia sia una materia oscura alle nostre latitudini, semplicemente la materia più importante che c'è insieme, forse all'italiano, è subito sotto la storia, a figurarsi. Se ci hanno detto che la storia è finita, quindi noi ben contenti abbiamo stabilito di non studiarla più, peraltro non c'è una vera e propria storia popolare da studiare sui nostri libri di testo, non si è abituato ad una storia lideristica o politica, ma la storia popolare neppure la conosciamo, quindi questo mondo ci sembra ancora più complicato, e se ne andassimo però a vedere con lenti storiche, vedremo che in altre epoche chi faceva parte di un impero notevole si convinceva puntualmente che tutto fosse finito, che il mondo fosse pacificato, che non restasse altro che godersi la vita, per poi puntualmente finire squarciati in questa fasulla certezza da che cosa? Dall'inserimento di potenze antagonistiche, che detto in maniera più concreta da storia popolare, da popoli antagonistici, cioè traduco in termini ancora più semplici, ci sono miliardi di esseri umani là fuori, che non sono monolite, sono organizzati in popoli spesso anche in lotta fra di loro, che non accettano l'ordine segnato dalle regole fissate dagli americani che noi abbiamo fatto nostre, punto. Questo succede nel mondo, non era scritto da nessuna parte, che so che gli indiani, anziché, non lo so, gli etiopi, i russi, i cinesi, gli iraniani, i turchi, dovessero i brasiliani, dovessero accettare le regole degli americani, che per noi sono scontate, no? Chi ha stabilito che il mondo debba parlare inglese? È una forma di potenza, nient'altro. E quindi inizia e finisce come tutte le vicende umane. Ma perché oggi questi soggetti, li vediamo qui su carta, le principali potenze sfidanti degli Stati Uniti e quelle che stanno creando le principali crisi? Questa carta l'abbiamo già vista quest'inverno. Almeno le guerre sono rimaste quelle. Non c'è stata necessità di aggiungerne altre, fortunatamente. Quindi guerre in Ucraina e in Medio Oriente, contesa per Taiwan e scontro nello stretto e Babbel Mandeb. Perché questo oggi avviene in forma spudorata? Cioè perché questi soggetti sfidano così gli americani, e quindi anche noi che siamo parte del campo statunitense? Perché gli americani fanno meno paura di dieci anni fa, neanche a dirlo di quindici, vent'anni fa. Questo è il punto. Ma perché fanno meno paura di un tempo? A complicarci il quadro, di solito, storicamente, usiamo di nuovo questo avverbio, che è quasi eversivo in Italia, Tutto questo avviene quando c'è un egemone in declino, gli altri in netta ascesa, e più o meno il gioco è fatto. No? È successo innumerevoli volte nel passato. Qui la situazione è più complicata, perché di dati strutturali in dati strutturali, gli Stati Uniti se la passano meglio dei loro antagonisti. Questo rende post-tramba ed inedita e più complicata la vicenda. Cioè, sul piano militare, economico, di penetrazione culturale, demografico, gli Stati Uniti ed America se la passano meglio di tutti i loro principali avversari. Dalla Cina, alla Russia, all'Iran, mettiamoci anche la Turchia, sebbene sia un membro della Nato. Gli Stati Uniti hanno un'età media più florida di questi soggetti, soprattutto in proiezione futura, hanno un'economia migliore, hanno, neanche a dire, un apparato militare che è migliore di tutti quegli apparati militari cumulati fra di loro, quindi non solo presi singolarmente, ma anche se fossero un fronte compiuto e equalizzato, e poi, con tutte le difficoltà del caso, la cultura americana rimane comunque più influente di quella cinese, anziché di quella russa, neanche a dirlo. Perché allora questi soggetti hanno meno paura, molta meno paura, di Washington? La Russia invade l'Ucraina, l'Iran tramite Hamas attacca Israele, che è considerato una miniatura degli Stati Uniti d'America, la Cina copre politicamente, diplomaticamente, economicamente, militarmente, tanto gli iraniani quanto i russi, e tutti i giorni la Cina ci dice guardate che Taiwan e Mia dovrà tornare a mento il 2049, infischiandosene di un'eventuale rappresaglia americana. Ciò che determina questa percezione degli Stati Uniti come meno spaventosi, meno capaci di incutere timore, lo troviamo anche su una carta come questa. Che carta è? Questa è la carta che raffigura il tasso di mortalità, come vedete scritto nella leggenda, per overdose da opioidi sintetici, per come è registrato nel 2022, che sono i dati ultimi, certi, che abbiamo. Di che diavolo stiamo parlando? Nella vita, così come nelle questioni che riguardano poi i popoli, gli Stati, quindi questioni nient'altro che umane, la percezione conta più della realtà. Innanzitutto perché la realtà è spesso inattingibile, cioè tu come la determini geometricamente, e poi perché, punto tra esseri umani, il sentimento, la sensazione prevalente sul dato scarno a cui faccio riferimento prima, cioè gli americani strutturalmente se la passano meglio, la loro economia va anche molto meglio, ma conta la percezione. E gli statunitensi sono profondamente depressi. Non è una questione di interpretazione. Ce lo dicono di nuovo i dati. Il 29% degli americani è stato diagnosticato depresso almeno una volta nella vita. Gli statunitensi hanno 335 milioni di abitanti. Fate un po' il calcolo, è un dato spaziale. Parliamo di una depressione diagnosticata, patologica, non una depressione sedicente, per cui piove, guardo fuori dalla finestra, dico, madonna, come sono depresso, e apro il frigorifero. La depressione è una malattia molto grave e il 29% degli statunitensi è stato diagnosticato almeno una volta depresso. Ed è un dato davvero incredibile. Si potrebbe obiettare, certo, negli Stati Uniti c'è un accesso agli psicologi, che in molti altri contesti non c'è, d'accordo, ma il dato rimane. E poi, questo è un dato del 2021, e nel 2022, ne aggiungiamo un altro, il 2023, 150 mila americani sono morti per overdose da fentanyl. Il fentanyl è una droga sintetica oppiacea che viene distillata in Cina, importata negli Stati Uniti attraverso il confine del Messico, sovente anche assemblata in ultima fase nelle machiladoras messicane e poi condotta altrove, ma questo non è dimostrato, di certo attraverso il Messico passa, e rappresenta anche questo un malessere. Ai noi c'è anche qui il fentanyl, ma i dati doverdose degli Stati Uniti sono quasi inarrivabili. Ultimo dato che ci mettiamo, gli Stati Uniti hanno tre volte il tasso di suicidi dell'Italia, due volte quello della Germania, e nettamente il tasso di suicidi più alto d'Occidente. Ma che cosa è che rende così depressi gli americani? Ciò che rende così depressi gli Stati Uniti, che poi causa della minore paura che gli altri hanno di loro, è l'aver scoperto quanto diceva all'inizio, quanto noi abbiamo creduto, e anche loro. Cioè quando gli statunitensi ci raccontavano che la storia era finita, che il mondo volesse parlare inglese, tutti a casa la sera a vedere le serie televisive, che i commerci regolavano l'umanità, eccetera, 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 e l'economia soprattutto. Ci hanno creduto anche loro, che è molto più grave, che ci abbiamo creduto noi, d'accordo, noi siamo il paese più anziano del mondo, 47 anni di età media, possiamo credere a quello che vogliamo. Se tu sei però l'egemone globale, e credi a queste sciocchezze qui, beh, anche senza citare Houston, abbiamo un grave problema. Gli americani è come se si fossero risvegliati da questa forma di improbabile certezza e ci fossero rimasti davvero molto male. Dobbiamo sempre ricordarci che gli Stati Uniti sono una superpotenza adolescenziale, hanno in sé una gemmazione del millenarismo protestante, cioè sono fondamentalisti cristiani, di cultura, quindi pensano di sé come il popolo che dovrà redimere l'umanità, il faro dell'umanità, la città sulla collina, per dirla col versetto della Bibbia di Re Giacomo, dicono gli americani. Se tu scopri di essere, o almeno così ti consideri, faro dell'umanità, ma l'umanità non ti vuole, lo scotto, il clivaccio tra te e la realtà diventa molto doloroso. Se a questo aggiungiamo che cos'altro che li deprime, il fatto che continuano a fare la guerra da troppo tempo e tutti i giorni. Adesso gli Stati Uniti sono impegnati direttamente o indirettamente in sei, sette, qualcuno dice anche otto conflitti in questo preciso momento. Per noi le guerre che cosa sono? Qualcosa che vediamo alla televisione raramente, qualche volta sui social, sono talmente distanti che spesso capita di fare questo tipo di interventi e c'è sempre un signore, una signora, sempre no, ma sovente che si avvicinano e dicono io questo l'ho già visto in un film, in una serie televisiva, è uguale. Non è proprio identico, ma il fatto che per noi sia uguale ci dà l'idea di quale distanza c'è tra noi la guerra. Meno male, aggiungerei anch'io, per gli americani no. Gli americani la fanno per davvero. Questo grava psicologicamente sulla popolazione perché la guerra non grava solo su chi spara al fronte. La guerra grava su tutta l'opinione pubblica perché vuol dire sostenerne lo sforzo psicologico per l'appunto. Cioè, per noi, come detto, i conflitti sono lontanissimi. Temo che ci sveglieremo molto presto per scoprire che lontanissimi non erano, ma incrociamo mille dita. Per gli americani vuol dire addormentarsi la sera, ad esempio, e dire che succede se questa notte la Cina invade Taiwan. Può capitare. Per gli Stati Uniti vuol dire combattere una guerra mondiale letteralmente nella quale feriremmo anche noi, ma noi ce ne accorgeremo sempre a modo nostro. a Babbo Morto. A vera metà c'è anche la guerra. Pensa un po'. Dice, noi avevamo immaginato che invece per questioni economiche non si potesse fare sciocchezze di questo tipo, su cui peraltro è ancora impegnato il nostro sistema di istruzione. Quindi fatichiamo proprio tanto a capire che succede là fuori. Gli americani ne soffrono. Terzo motivo che li rende così depressi e che scatena la reazione degli altri devono manutenere un sistema globale che ha 8 miliardi e 100 milioni di abitanti. E diventa davvero complicato, se non impossibile. Durante la prima globalizzazione, quella romana, sul Mediterraneo, si affacevano tra i 70 e gli 80 milioni di esseri umani. Durante la prima globalizzazione planisferica, quella britannica della seconda metà dell'Ottocento, quella del giro del mondo in 80 giorni, di Giulio Verne, come chiamavamo allora i letterati, traducendoli in italiano, pensate a un po' che tempi meravigliosi. Ebbene, in quella globalizzazione che era britannica, anche se il nostro Giulio, che si chiamava Giulio, britannico non era, il mondo aveva 750 milioni di abitanti. Oggi ne ha più di 8 miliardi. È come se gli americani avessero davanti una plancia infinita di schermi e non sanno dove guardare. E appena si girano dall'altra parte succede qualcosa. Specie se l'umanità in larga parte non ti vuole. Questo complica ulteriormente. Ultimo punto della loro depressione è che oltre a tutto questo quadro gli statunitensi si sentono insidiati in casa loro. Ma chi è che li insidia in casa loro? Beh, questo paese qua, cioè il Messico, rappresenta oggi nella mente, nella psicologia dell'opinione pubblica americana, la principale insidia interna, domestica. Cioè, beh, ci sono tra i 70 e gli 80 milioni di statunitensi di origine ispanica, secondo l'ultimo censimento. Il censimento si fa negli anni pari, negli Stati Uniti l'ultimo è del 2020. L'Italia lo fa, come sapete, nel primo anno del decennio, perché quello fu l'anno dispari della nostra unificazione, ma gli Stati Uniti no. L'ultimo censimento racconta che sono poco meno di 100 milioni, poco meno, 80 milioni gli ispanici e non sono tutti di origine messicana. tuttavia lo sono in larga maggioranza e secondo le proiezioni continueranno a crescere nei prossimi decenni, superando ampiamente i 100 milioni. Qual è il problema? Qualcuno potrebbe dire, beh, ma gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione. Che cosa li spaventa così tanto degli immigrati di origine messicana, ancora più che ispanica? Due ragioni. A parte, dovremmo aggiungere un asterisco, sì, d'accordo, sono un paese di immigrazione, ma che hanno sempre assimilato gli euro immigrati, ma era molto violenta. Oggi il primo ceppo etnico degli Stati Uniti sono i tedeschi, i tedeschi sono stati assimilati dalla prima e dalla seconda guerra mondiale in campi di concentramento negli Stati Uniti d'America, dove non venivano uccisi, ma rieducati culturalmente sì. Ma questa è un'altra storia. Ciò che è loro inquieta dei messicani è, prima ragione, senza girarci troppo intorno, i messicani non sono bianchi. Non è che gli Stati Uniti siano estranei o alieni al razzismo. No, penso lo scopriamo stasera, neanche noi, da essere proprio onesti, ma non lo scopriamo stasera. Soprattutto, per la prima volta hanno a che fare con un ceppo di immigrazione che non ha la madrepatria oltre l'oceano, ha la madrepatria oltre il fiume. Questo qui è il Rio Grande, che i messicani chiamano Rio Bravo del Norte, ma è lo stesso. Cioè, gli immigrati messicani nel weekend, se vogliono tornare a casa, vanno a trovare i parenti. Gli Stati Uniti non sono un paese di integrazione, come noi, ammesso che ci riusciamo, sono un paese di assimilazione. Cioè, non sono un paese multiculturale, sono un paese multietnico, ma monoculturale. Cioè, si può essere solo statunitensi, non può avere un'altra cultura, un'altra fedeltà, un'altra madrepatria, non ne può avere due, tre, otto, quindici, una sola. Come tutti i paesi che fanno la guerra, devono essere certi che i loro commilitoni vedano il mondo esattamente come tutti gli altri. altrimenti la notte non dormono perché devono controllare anche il loro commilitone. Questo è il senso dell'assimilazione. E i messicani possono mantenere un cordone umbilicale come nessun altro popolo prima di loro immigrato. Non gli italiani, non gli irlandesi, non gli tedeschi, avevano la madrepatria all'altra parte dell'oceano. Loro ce l'hanno lì. Ancora più complicato, questi stati, dal Texas alla California, tutta questa parte del sud-ovest, noi cammiamo per ragioni inspiegabili le serie televisive americane, per noi la quintessenza degli stati americani, per il Messico quello è Messico. 150 anni fa, poco più, era Messico, non 6.000 anni fa. Per i messicani dovrà tornare a essere Messico e dove si sono stanziati principalmente i chicanos, come li chiamano gli statunitensi, quelli che nascono lì, in questi stati qua. Chi l'avrebbe mai detto? E anche per questo hanno costruito un terzo di muro che formalmente serva a dividerli per l'immigrazione, sono sciocchezza ovviamente, gli stati uniti hanno bisogno di immigrazione. Il muro che esiste per un terzo serve a dividere i nonni che rimangono qui dai nipoti che nascono qua, affinché il collegamento sia fisicamente complicato. Tutto questo genera la depressione degli americani, gli statunitensi, che conduce anche a quello che è successo sabato sera, no, anzi pomeriggio, notte da noi, ovvero perché se sono depressi gli americani non vuol dire che reagiscano alla depressione allo stesso modo, anzi, reagiscono in maniere diverse, specialmente in due modi differenti che segnalano la spaccatura nel paese. Come vedete noi stiamo andando a vedere, è stata citata all'inizio e lo ringrazio, la geopolitica umana che fa esattamente questo mestiere qua, cioè va a vedere la base, il sentimento, le pulsioni culturali, antropologiche, linguistiche delle popolazioni, non la sovrastruttura, cioè la politica che è quello che emerge spesso non conta, ma la parte profonda. E l'America è divisa sulla reazione alla depressione, le coste, Pacifica Atlantica, come reagiscono? D'accordo, il mondo non ci vuole, colpa nostra, abbiamo sbagliato noi, anzi, dobbiamo anche chiedere un po' scusa all'umanità, davvero? Di qui la cultura del guochismo e della cancellazione, no? Rinneghiamo il nostro passato, abbiamo sbagliato, siamo stati violenti, razzisti, coloniali, abbiamo voluto dominare il mondo, non è vero che possiamo redimere l'umanità, evviva. La parte centrale degli statuti d'America, cosiddetta America profonda, come se fosse un dipinto ad olio, insomma, l'America centrale, loro la chiamano the heartland, quindi il Midwest, che è la regione dei Grandi Laghi, che è la regione più importante del paese, perché lì si stanziarono i tedeschi, il sud, più questa fascia che arriva più o meno al sud-ovest, reagisce in maniera molto diversa alla depressione, dice no, se il mondo non ci vuole è colpa sua, letteralmente, non può essere colpa nostra, noi eravamo in buona fede, noi abbiamo tutte le ragioni del mondo, anzi, quelli con cui ce l'hanno di più, questa parte d'America è molto arrabbiata, con chi ce l'ha? Ce l'ha un po' con gli apparati federali, cioè gli stessi apparati degli Stati Uniti che dicono ci hanno ingannato, ci hanno detto che noi dovevamo andare a fare le guerre perché gli umani ci amavano, ci hanno mandato in trincea per scoprire che non ci vogliono e poi ce l'hanno con noi, con gli europei occidentali, su tutti, perché con noi? Perché noi campiamo alle loro spalle, non facciamo la guerra, esportiamo verso di loro senza pagare, non spendiamo e non ci spendiamo, se riconoscete in questo la retorica trampiana è perché è la retorica trampiana, perché i politici non è che inventano questa roba qua, un bravo politico la cavalca, non sa neanche da dove venga, ovviamente, per questo è mediamente insignificante, perché questo malessere resta, Biden ovviamente incarna la reazione delle coste alla depressione, Trump quella dell'interno, quello che è capitato è che in un paese è così diviso in Pennsylvania, peraltro uno degli stati, uno stato peculiare la Pennsylvania, perché è uno stato che affaccia sulla costa, ma è anche uno stato culturalmente del Midwest, adesso questo non ci interessa, come tutti i stati del Midwest sono importanti, è successo che è stato tentato un omicidio ai danni di Trump, purtroppo nella storia degli Stati Uniti neanche niente di nuovo, ad essere molto sinceri, più di un presidente è stato ucciso, non solo hanno provato ad ucciderlo nella storia degli Stati Uniti, certo non capitava da un po', anche se Reagan aveva subito un attentato notevole ai suoi tempi, che cosa ci dice a questo attentato, ci dice che gli Stati Uniti sono un paese depresso, arrabbiato, che reagisce alla depressione in modo singolare, addirittura qui la questione si complica, può essere anche soltanto l'atteggiamento di un folle, io non ne ho idea, perché questo era un ragazzino che si era anche avvicinato ai repubblicani, però sapete, i partiti in America non esistono veramente, non siamo in Europa, se voi accendete una televisione italiana sembra che esistano davvero, insomma, per esempio, esiste un segretario del Partito Democratico ed anche un segretario del Partito Repubblicano, non solo noi non li abbiamo mai sentiti, ma neanche gli americani, se facessimo un sondaggio non sanno neanche chi siano, formalmente esistono, quindi figurarsi, può essere un atteggiamento di un folle che però ci restituisce anche un cane sciolto, un lupo solitario, un malessere profondo che è quello che ho provato a descrivere. Che cosa può succedere? Se noi andiamo a vedere qualcosa che ci riguarda da vicino, ne abbiamo parlato già durante quest'anno, cioè lo stretto di Babbel Mandeb, 15 anni fa, 10 anni fa, gli Stati Uniti sarebbero intervenuti loro, avrebbero messo il piede nel piatto, dicendo la globalizzazione è roba nostra, la manuteniamo noi, quello che facevano sempre. Ed era vero, la globalizzazione è loro, l'hanno creata loro quella che conosciamo e la globalizzazione si fonda su che cosa? Sul controllo degli stretti e questo è uno stretto, lo stretto di Babbel Mandeb, uno dei più importanti del pianeta, quasi il 90% delle merci, poco più, poco meno, di questa terra viaggia via mare, l'unico modo per controllare il tragitto delle merci è controllare i passaggi obbligati, quelli che in inglese si chiamano i punti di soffocamento. Babbel Mandeb è uno di questi, sono poco meno di 50 km di mare che dividono, come vedete, la penisola arabica che è questa roba qua dal corno d'Africa, siccome la divinità spessa e perfida in mezzo ci ha messo anche un isolotto e questo rende la navigazione incerta, poi gli arabi sono popolazione lirica o piagnona, fate voi il termine, anzi la locuzione Babbel Mandeb è arabo, vuol dire porta del lamento e il gioco è fatto. Prima di questo inverno qui passava tra il 16 e il 18% il traffico commerciale globale. oggi gli statunitensi sebbene la globalizzazione ripeto cioè la creazione di un unico mercato globale sia a far loro del quale noi beneficiamo tra le imprecazioni e le bestemmie dell'America profonda ma una volta intervenivano loro. Oggi la cabina tattica ad esempio di una missione più o meno paneuropea anche se realmente non lo è affidata all'Italia e non sono corsari non sono pirati gli uti perché quella macchia viola che vedete sono gli uti che sono un partito politico iemenita non sono un popolo non abbiamo già parlato sono stanziati qui perché dominano la guerra civile iemenita sono usciti quindi sono un agente dell'Iran ma questo adesso lo vedremo velocemente ma non sono pirati non è che attaccano i mercantini perché vogliono il bottino non li attaccano neanche con le navi che non hanno li attaccano con i droni vogliono semplicemente interrompere il traffico commerciale droni di produzione iraniana con componentistica cinese al loro interno che dipende quanti ne compri ovviamente ti fanno lo sconto il prezzo migliore che tu possa spuntare è 73 mila dollari per un drone di quelli che mettono in crisi il traffico commerciale che costringe oggi in larga parte se non in totale parte le navi i mercantini occidentali a fare il periplo dell'Africa con si allungano i tempi ovviamente di consegna si allungano anche i costi dell'assicurazione e soprattutto a differenza di quello che capitava prima perché rimontando il Mar Rosso e poi al canale di Suez come ovvio si va nel Mar Mediterraneo adesso invece molte di queste navi non entrano dopo aver fatto il periplo dell'Africa tramite Gibilterra nel Mediterraneo ma scelgono di proseguire attraversano l'Atlantico passano la Manica e arrivano tra Rotterdam e Hamburgo mettendo ulteriormente in difficoltà i nostri porti quindi per noi questa è veramente una situazione ferale di confronto della quale gli Stati Uniti oggi dicono benissimo cioè malissimo affari vostri sì hanno sparato anche loro però hanno lasciato a noi molto di questo è in quella rabbia dell'America profonda che ho provato a raccontarvi una nota personale ormai diversi anni fa io decisi di vederla da vicino non la conoscevo l'America profonda proprio per stabilire quale fosse era inizio degli anni 2000 quale fosse il cuore degli Stati Uniti e come vedesse il mondo e già allora c'erano le prime abisaglie di un atteggiamento di questo tipo sebbene all'epoca era edulcurato dal fatto che sembrava che gli Stati Uniti potessero tenerlo in pugno il mondo oggi quello scoramento come ho provato a dimostrarvi li rende molto più indisciplinati e anche meno intenti a fare la guerra qua perlomeno perché hanno pagato a lungo nel Grande Medio Oriente l'inutilità dei loro interventi dall'Afghanistan all'Iraq qui il punto è che gli UTI intervengono laggiù non perché sono come dire corsari folli o più o meno violenti questo lo sono di certo ma perché questo elemento qui è collegato alla guerra a Gaza che è l'altra parte di questa vicenda nella quale anche qui la capacità di influenza degli Stati Uniti è venuta molto meno da quanti mesi sono che l'amministrazione americana e non è una questione di Biden o Trump le potenze non è che guardano molto al di là delle chiacchiere queste sono riduzioni giornalistiche o ancora peggio politologiche non è che guardano molto a chi guida questo o quel paese figurarsi la potenza non è fatta di cene ah ma ha detto durante la cena ma ha preso sotto braccio capirai eppure da molti mesi gli statuti dicono a Israele di smetterla con risultati nessuno molto semplicemente e gli Uti vorrebbero proprio questo che Israele interrompesse la controoffensiva a Gaza a Gaza è grande come il lago di Garda che è proprio un luogo lontano da qui tuttavia ha 2 milioni e 400 mila persone dentro un milione e mezzo è ammassata nell'unico valico meridionale che dovrebbe aprire verso l'Egitto se non ci arrivo ma che avete sentito nominare il valico di Rafa alla controoffensiva di Israele non si ferma e gli americani non riescono ad imporre la loro volontà chi sta vincendo la guerra a Gaza ed è per questo che gli Uti intervengono difficile rispondere con una sola dimensione le guerre dovrei dire come tutte le vicende della vita hanno sempre due dimensioni quella tattica e quella strategica che noi fatichiamo molto a riconoscere perché ci siamo fatti sedurre dall'inglese e in inglese tattico si dice strategico quindi non ci capiamo più niente e poi perché questo è un po' un dramma delle aziende per darsi un tono definiscono strategico ogni cosa che fanno anche la telefonata al portiere diceva ho preso oggi una decisione strategica ho chiamato in portineria anche quello che fa un'azienda di strategico ne fa una due iniziative l'anno se no vorrebbe dire che anche che va molto male un'azienda che ha necessità di fare tutto di strategico spesso è tattica bene dimensioni tattica Israele sta straperdendo la guerra perché perché dovrà debellare Hamas ma Hamas è un'idea è un partito non la puoi debellare militarmente è una gemmazione della fratellanza musulmana la risposta musulmana alla democrazia cristiana pensate un po' non tanto Hamas quanto la fratellanza musulmana da cui nasce se oggi conducessimo un sondaggio della martoriata a Gaza io credo scopriremo che il consenso nei confronti di Hamas è salito e non sceso per evidenti ragioni e poi perché i tunnel sono quasi tutti intatti i capi militari non si sa dove siano ma i capi politici di Hamas non sono a Gaza vivono in Qatar viaggiano per il mondo con passaporto turco quindi figurarsi ma sul piano strategico Israele la guerra la sta vincendo il punto è che il piano strategico è complicatissimo da spiegare il piano tattico è ciò che è visibile agli occhi anche per i non addetti ai lavori e quindi ciò che conta di più nell'immediato il piano strategico lo devi perlomeno toccare con una certa competenza ebbene l'obiettivo dell'Iran che ha spinto Hamas ad attaccare Israele era distruggere gli accordi di Abramo di cui immagino abbiate sentito più volte parlare l'abbiamo parlato anche noi si è sentito un americano gli accordi di Abramo che diavolo sono sono una sorta di muto riconoscimento tra pittori della domenica che si sono ritrovati guardandosi nelle palle degli occhi hanno scoperto anche di amarsi nel profondo perché sono una forma di riconoscimento tra Israele quindi scambio di legazione diplomatica tra Israele le principali monarchie arabe del golfo Bahrain Emirati Arabi che hanno firmato a Penna i sauditi che hanno firmato a Matita mettiamoci anche il Marocco e il Sudan sono ovviamente qualcos'altro gli accordi di Abramo la dizione cioè la carta intestata era idea americana avvengono dopo le sconfitte subite dagli statuti del grande Medio Oriente e dopo che si genera quel sentimento di apatia profonda nell'America quindi gli statunitensi dicono sai che c'è noi dal Medio Oriente ce ne andiamo anche perché abbiamo scoperto di essere esportatori netti degli idrocarburi non ci serve come un tempo stare laggiù invece se stanno per andare i sauditi ma non solo le altre monarchie arabe alzano la mano e dicono e noi? la risposta agli americani quelli chiedono chi ci protegge dall'Iran che è il principale nemico dei sauditi degli emiratini dei bareniti ma anche di quasi tutti gli altri arabi la risposta agli americani chi vi protegge fatemi proteggere da Israele perché proprio Israele perché è l'unica potenza nucleare della regione molto si apprezzamente da come voi un nemico comune che è l'Iran questi sono gli accordi di Abramo l'obiettivo dell'Iran attraverso Hamas era mettere in ginocchio la deterrenza israeliana in termini mangiabili a cena dire ai paesi arabi siete così convinti che vi convenga farvi proteggere da Israele guardate un po' che cosa succede a Israele con un'organizzazione ridicola di incapaci come tutti riconoscono essere Hamas un'organizzazione partito che ha una frange terroristica paramilitare ma mica un esercito eppure in 24 ore mette in ginocchio Israele siete così convinti nascondervi sotto la gona di Israele sia utile ebbene gli accordi di Abramo sono rimasti tutti lì la Rebbe Saudita li firmerà chissà appena probabilmente se vi ricordate lo scorso aprile quando ancora non c'eravamo visti ci sono stati uno scambio di prove tecniche di attacco diretto tra Israele e l'Iran e l'Iran l'Iran ha provato ad attaccare lo Stato ebraico chi si è alzato in volo per proteggere aprile quindi molti mesi dopo dopo il 7 ottobre 2023 dall'inizio della guerra chi si è alzato in volo per proteggere anche se Israele non ne aveva granché bisogno ma comunque il territorio di Israele Giordania Emirati Arabi Arabia Saudita per segnalare all'Iran che la guerra strategicamente Israele la sta vincendo questo è conflitto in Ucraina qui c'entrano le elezioni americane beh sì forse non per quello che immaginiamo perché? beh perché i presidenti degli Stati Uniti non sono imperatori anche se forse ne abbiamo questo tipo di sensazione i padri i mitologici i padri fondatori beati loro di fine Settecento statunitensi volevano che il presidente una donna in oro non c'è mai stata volevano che il presidente degli Stati Uniti non avesse quasi poteri possibilmente punti poteri si direbbe con un toscanismo in fiorentino e ci sono riusciti perfettamente dobbiamo immaginare che questi signori si ribellavano ad una monarchia a Re Giorgio il re d'Inghilterra ciò che non immaginavano è che quella piccina potenza che maneggiavano fosse destinata a diventare la prima potenza del pianeta questo ha creato una distanza schizofrenica tra la realtà e la percezione di nuovo che è sempre poi la vicenda umana qual è il dilemma classico degli esseri umani ma io sono parte della malattia o della cura e che ne so siamo sempre lì quindi se tu sei presiedi la prima di gran lunga la prima potenza del pianeta ma non hai poteri ma chi se ne accorge soprattutto ma chi lo va a vedere il blef questo dice ah io domani come Caligola no io domani voglio che tutti quelli che hanno la barba siano uccisi l'ha detto il presidente degli Stati Uniti non l'ha mai detto lo diceva Caligola state tranquilli ma non ha poteri per realizzarlo quindi si dice voglio uscire dalla Nato ma con quali poteri nessuno ciò che conta per davvero negli Stati Uniti d'America è ciò che vogliono fare coloro che non sono eletti e che Trump non a caso odia perché tutto questo lo sa come lo sa anche Biden o lo sapeva sappiamo senza alcuna ironia quale sia lo stato di consapevolezza di Biden in questo momento ma lo dico davvero senza alcuna forma di sarcasmo è una delle questioni incredibili di questa campagna elettorale abbiamo parlato per settimane dei problemi tra virgolette neurologici dico tra virgolette perché non sono un medico non posso certo fare una diagnosi d'accatto ma così sono stati presentati abbiamo visto l'attentato subito da Trump che ha 78 anni quindi non è esattamente un ragazzino la capacità di piegarsi alzarsi poi sceneggiare col pugno chiuso eccetera che comunque segnala una reazione fisica emotiva oggettivamente straordinaria anche qui senza valutazione né politica né valoriale proprio a livello neurologico fisico e per età ma i presidenti americani su questo possono poco poco per non dire niente chi può molto è l'opinione pubblica statunitense anzitutto che vuole congiare questa guerra perché non ha per niente ce lo dicono i sondaggi voglia di condurla nel lungo periodo non ne capisce fino in fondo il significato e soprattutto non la crede come dire non la crede risolvibile sul terreno a seguire gli apparati di Pentagono soprattutto Dipartimento di Stato la CIA che dicono non solo risolverla sul terreno è quasi impossibile se non andando allo scontro seminucleare con la Russia e ce lo risparmiamo volentieri perché questa guerra ha avvicinato non abbiamo parlato più volte i russi e i cinesi che c'entrano le elezioni americane beh il poeta diceva ogni fallimento ha bisogno della sua clac anche i non fallimenti cioè la narrazione il marketing per dirlo in cacofonia termine tremendo è necessario in tutte le vicende gli Stati Uniti vogliono congelare questa guerra l'elezione del Presidente serve a narrare il proposito quindi se fosse confermato Biden o chi per lui non lo sappiamo a quanto sembra Biden non si vuole ritirare e anche legittimamente ha guadagnato l'opportunità di correre per essere confermato questa è un'altra storia se fosse confermato Biden anche per lui probabilmente direbbe dobbiamo parlare con i russi per essere molto crudi perché tanto da qui non se ne esce un'ecatombe lo facciamo per il bene dell'umanità e forse anche dell'ultraumanità forse anche di qualche alieno vogliamo bene a tutti e quindi congeliamo la solita narrazione degli Stati Uniti come una grande ONG congeliamo questa guerra se fosse eletto Trump invece ci direbbe che lui in 24 ore la risolve perché Putin è un fratello un cugino sono grandi amici che fosse stato per lui questa guerra non ci sarebbe mai state sciocchezze di questo tenore in realtà i americani sono questa roba qui non andiamo molto oltre non riprendiamo troppo sul serio perché poteri non ne hanno poi Biden è un signore finché era soprattutto preso da sé che accettava in maniera discretamente serena lo stato delle cose Trump è un signore l'abbiamo visto nei quattro anni nella Casa Bianca molto riottosa riguardo lui spingi un pulsante non succede niente spingi un altro non succede niente e cominciava a bestemmiare cioè l'atteggiamento di Trump è sempre stato questo la Casa Bianca Biden no ma non vuol dire che Trump abbia poteri più di Biden questo non c'è attenzione perché comunque gli americani vorranno parlare con i russi con questo cambio di narrazione da un Presidente ad un altro che non significa neppure che ci riusciranno perché gli stessi apparati non sanno congelare la guerra ma come su quale confine quando raccontandola in quale maniera sanno solo di volerci provare perché non significa per niente che ci riusciranno in mezzo c'è questa roba qua di cui abbiamo già parlato che ha avuto ulteriori sviluppi perché dicevo gli Stati Uniti non solo giudicano all'unpass alla guerra in Ucraina e quindi quanto dobbiamo andare avanti perché sì non c'è stato proprio in questi giorni il vertice della Nata a Washington non è stata segnalata una strada certa d'ingresso dell'Ucraina nella cosiddetta Alleanza Atlantica ma insomma la Nata è già ampiamente entrata nell'Ucraina adesso non sappiamo quando ci entrerà l'Ucraina viceversa è già accaduto ciò che invece è molto più in ballo è qui perché il presidente X o Y anche qui cambia pochino la competizione fra Stati Uniti e Cina resterà non è che se fosse eletto uno al posto di Biden o lo stesso Biden o Trump chiunque fosse trasmuterebbe la conflittualità tra Washington e Pechino in una questione diversa per niente perché questa c'è per ora è soprattutto sul piano commerciale ma non è una disputa commerciale per noi è un po' complicato questo da stabilire si tratta di due superpotenze più o meno gli Stati Uniti di sicuro la Cina un po' meno a questo ci interessa che hanno nell'economia uno strumento della potenza non è il fine ultimo della loro azione non sono l'Italia o la Germania o il Giappone o il Canada sono imperi e l'atteggiamento di guerra commerciale degli Stati Uniti punta al surplus commerciale della Cina ma non perché lo vuole Washington se no sarebbe un confronto tra potenze economiche io voglio il surplus commerciale voglio le tue manifatture voglio prendermi la tua quota di mercato questo lo può fare appunto un paese qualsiasi convenzione anche molto capace come la Germania come l'Italia ma non un impero gli Stati Uniti non vogliono il surplus commerciale in quanto tale vogliono che la Cina ne abbia meno affinché ne abbia meno da spendere perché che diavolo ci fa la Cina con il surplus commerciale che ci fa la Germania la Germania il surplus commerciale ci fa essenzialmente una cosa anzi una cosa e mezza stato sociale welfare va quasi tutto lì perché la Germania non è mica l'Italia non è come l'Italia che gioca folcloristicamente a far finta che gli italiani siano diversi fra di loro e il Veneto a volte di questo folklore ne fa anche un uso eccessivo i Veneti sono i più italiani degli italiani hanno tutti i pregi e tutti i difetti italiani ma a volte giocano a essere un po' a parte i tedeschi le nazioni diverse ce le hanno davvero al loro interno i bavaresi i sassoni mica sono la stessa nazione non parlano neppure la stessa lingua non hanno neanche la stessa religione e lo stato sociale in Germania serve a livellare le differenze poi una parte viene spesa in tecnologia ma la Cina che ci fa? la Cina la spende anzitutto nel militare sul plus commerciale poi in tecnologia e poi e poi per livellare un'enorme differenza che ha al suo interno perché la costa cinese con l'apertura al commercio estero è diventata benestante è quasi postorica sembra quasi l'Occidente l'entoterra rimane mediamente alla fame molto arrabbiato e per niente postorico e la storia cinese trimillenaria insegna che quando questo succede di solito le campagne come vengono chiamate in Cina come viene chiamata in Cina all'entroterra in senso allargato con una metonimia allargata le campagne fanno la rivoluzione si arrabbiano semplifico di molto e vanno contro le città Mao è arrivata al potere così per evitare che questo accada una parte sul plus commerciale viene destinato all'entroterra proprio per livellare queste differenze che sono differenze soprattutto di rabbia e di opportunità gli Stati Uniti dicono se noi gli togliamo una buona fetta sul plus commerciale questo si incrina ne hanno meno da spendere quindi non è una disputa commerciale in quanto tale non sono potenze economiche che si disputano una quota di mercato in mezzo in mezzo c'è poi Taiwan su cui chiudo ne abbiamo anche qui durante questo anno in maniera itinerante insieme ne abbiamo già parlato Taiwan è importante per la posizione a questo serve la carta con le mie spalle sono 150 km di mare questi lo stretto di Formosa l'hanno chiamato così i portoghesi ma l'abbiamo già visto ci sono degli isolotti come quello di Kinmen che sono a meno di 10 km da bagnasciuga cinese Taiwan è importante non per i chip per i semiconduttori anche che vengono prodotti lì il 60% di quella quota totale che produce l'umanità ma l'abbiamo già visto insieme nella storia americani e cinesi maoisti si sono fatti la guerra hanno sfiorato di farla già tre volte due volte negli anni 50 una volta negli anni 90 quando micro chip e semiconduttori non se ne producevano a Taiwan Taiwan è importante perché impedisce come vedete da questa carta visto che qui c'è la marina militare americana nei cinesi di uscire di casa questo la rende così pericolosa e dal momento che la Cina questo è il punto potrebbe approfittarsi della distrazione americana in Europa specie sull'Ucraina o addirittura dentro se stessa perché la depressione da cui siamo partiti è una forma di distrazione degli americani e su questo chiudo gli Stati Uniti dicono specie il Pentagono e se nottetempo se ne approfittassero attaccassero Taiwan che cosa può succedere speriamo di no non sembrerebbe alle viste ma questo è ciò che rende quest'isola la più pericolosa del mondo anzi questa potrebbe essere la prova provata di quanto dicevamo in principio del mio intervento ovvero nel momento che gli Stati Uniti fanno meno paura ad un tempo perché sono così depressi al loro interno anche la Cina potrebbe arrischiarsi e lanciarsi su Taiwan cioè lanciarsi in che cosa? in un'operazione che non ha mai realmente realizzato c'è uno sbarco anfibio che è la più complicata delle manovre militari in assoluto che in senso unitario la Cina nella sua storia i cinesi sostengono di stare al mondo a 5.000 anni non ha mai realizzato se non parzialmente proprio su Taiwan con Iming o come fallito tentativo nel prendersi il Giappone quindi saremmo davanti ad un caso eccezionale ebbene è però un caso che non possiamo escludere che aumenta la preoccupazione fra gli americani grazie e buon proseguimento grazie grazie davvero grazie a Dario Fabri insomma anche le ultime parole inquietano un po' ma questo è il quadro preciso che il direttore di Domino ci ha proposto questa settimana